Buongiorno ragazzi, mamma mia, allora iniziamo subito col botto, sono le 8 e 13 da mattina e sono in ritardo dovevo partire un quarto d'ora fa ma purtroppo le scarpe del matrimonio, quelle super eleganti che di solito sono sempre perfette stavolta erano sporche, quindi ho dovuto nevarle, in primis, secondi, se stavo partendo ma poi mi sono dimenticato la 7S2 c'è un'altra Sony in casa e me ne servono tre di macchinette ogni volta al matrimonio e quindi me la sono dimenticata, ho tornato indietro a fare questa roba, adesso sto scappando perché devo andare a fare il pieno di metano perché se no io là non ci arrivo neanche morto, uh verde, vedi corri corri, c'è faccio niente, la delusione, la delusione dei miei occhi, palpabile, e niente ragazzi spero che non si incazzino perché devo andare a fare metano e poi andare a Verona Sud e ci metterò un pochino un pochino dietro di me c'è un trattore ok ragazzi foto dello sposo fatte, adesso intanto questo posto è bellissimo e adesso ragazzi andiamo alla cerimonia andiamo a chiesa ragazzi con tutti i parenti e quant'altro, stiamo aspettando la sposa che arrivi e io ho già piazzato i microfoni dentro quindi tutto a posto, non mi devo perdere i pezzi per strada però che adesso metto agilmente in macchina se no poi perdo mannaggia me, ho già fame ragazzi, sto morendo di fame allora ragazzi siamo arrivati in questa cantina a Valleggio sul Mincio e adesso facciamo un po' un aperitivo però guardate qua, a parte che c'è freschissimo, si sta veramente da dio e non ho neanche mai visto un matrimonio in un contesto così se devo essere sincero adesso devo fare un po' di riprese così, qualche dettaglio e vi faccio vedere tipo degli esempi faccio dei dettaglietti così questo è un video, poi vediamo qua com'è insomma dei dettaglietti fare un po' vedere il contesto e quant'altro adesso torno di là pazzesco pazzesco, pazzesco bellissimo ora l'importante è che vado a bere perché sennò qua non si riesce a filmare bene oh ragazzi non si finisce mai di mangiare, di bere ho bisogno di una pausa cioè uno si impegna con la dieta e tutto e poi e poi gli tocca lavorare in matrimoni cioè rendiamoci conto vabbè comunque tra un po' ci sarà il taglio della torta dobbiamo prendere gli sposi appena si abbassa un pochino giù la luce così facciamo delle fotine molto carine e poi taglio della torta, balletti e si va via ragazzi non ho mai stato un matrimonio con così tanta roba organizzata pesca, gare, giochi, musica, tombola cioè io ho mai visto una roba leggenda e lo faccio da otto anni mamma mia vi dico ragazzi io sono stanco morto ma la serata non finisce qua ho appena fatto delle riprese qua da sopra che c'è una finestra aperta la gente dentro da fuori balla non riesco a parlare ho appena fatto delle riprese da qua dentro perché fuori la gente balla e quindi essendo in posizione elevata viene un pochino più carino comunque niente adesso io spero che tra un po' finisca tutto e si chiude la baracca e burattini anche se non penso però alla peggio stacco io e continuiamo cioè ragazzi quando meno te l'aspetti arriva la sorpresa cioè mai capitata una roba del genere che a fine serata ci fosse la pizza pazzesco, pazzesco ragazzi, pazzesco allora accendiamo qua così mi vedete meglio ho finito di lavorare ho finito da più di 40 minuti solo che ci siamo fermati un pochino lì a chiacchierare mangiare una pizzetta, sistemare due cose saluta gli sposi e poi chiudiamo baracca e burattini e andiamo via adesso sono quasi a Verona perché la villa dove eravamo era a Valleggio sul Mincio come zona circa frazione di Valleggio sul Mincio dove ci sono i tortellini infatti abbiamo mangiato non tortellini ma roba molto buona tutto il giorno a bere tutto il giorno a mangiare principalmente mangiare e niente ragazzi io adesso devo tornare a casa lascio giù le cose e poi vado all'Andorofest solo che il problema dell'Andorofest è che ha il Forte di Montorio forte che io c'era già andato con il mio amico tedesco se andate a vedervi i vlog di inizio giugno o inizio luglio si inizio luglio il problema di quel Forte è che ci arrivi benissimo il motorino ma in macchina no e il motorino non so se l'ha preso Davide o anzi probabilmente l'ha preso Davide immagino e se no c'è lì se c'è il motorino a casa top io arrivo parcheggio di fronte all'ingresso altrimenti mi tocca andare in macchina potrei andare col monopalle effettivamente però lì dove cazzo lo metto non lo so e quindi penso che andrò in macchina solo che poi mi aspetta un 15 minuti di salita così e non è il massimo decisamente no vabbè ragazzi comunque giornate interessanti giornate impegnative io domani domenica voi dite giorno il signore si riposa purtroppo no perché io ho scelto un tipo di vita abbastanza diventata quindi domani devo editare già i video che ho fatto ieri al lavoro perché me li hanno chiesti entro lunedì almeno degli spezzoni così e... insomma... si fa quel che si può ragazzi si fa quel che si può sto facendo un mega favore è un ottimo cliente quindi... un po' ogni tanto bisogna protagarsi al signore mettersi a 90 e lasciare che entri dentro tutto che coglioni comunque ragazzi queste sono le novità questa è la situazione non vedo l'ora di tornare a casa adesso in 20 minuti sono già lì e metti che il tempo è per separarsi cambiarsi i vestiti 5 minuti partire arrivare là in macchina altri 10 minuti quindi 15 minuti da... quindi mezz'ora da ora e per essere lì poi 15 minuti a piedi 45 minuti io arrivo per mezzanotte sono lì cioè sto lì un'ora e... però vabbè per salutare un po' gli amici e... farsi un po' vedere perché sennò... impossibile dai per mezzanotte sono lì questo è il piano niente ragazzi ci abbiamo fatta da arrivare all'Undaro Fest e... alla fine a differenza di altre volte l'ingresso era 5 euro 10 se non aveva il biglietto il bicchiere adesso dobbiamo trovare gli altri che sono qua da qualche parte non so neanche perché sono venuto con il cappello cowboy però vabbè ok ragazzi abbiamo trovato gli altri sono seduti attualmente dietro di me però guardate che figata non sapevo neanche che ci fosse questo palco secondario con musica non country per capirci la giusta tecno che ci piace e niente adesso ascoltiamo mi sa che vado a bere qualcosina tra un po' adesso qua la carissima Sara si sta preparando per uno spettacolino allora signori siamo qua all'Undaro Fest in particolare il castello di Montoro ci vuoi raccontare un pochino? fai vedere il castello che bello adesso c'è lo spettacolo di fuoco di Saretta e Giulia e quindi siamo un po' agitati sarà bellissimo come saranno questi giorni qua? è stupendo siamo stati graziati anche quest'anno dal meteo totalmente e niente adesso sta iniziando questa magia quindi mi sa che faremo il continuo più tardi esatto esatto allora vi dico io non so se avrei il coraggio di fare queste cose qua cioè avrei paura tipo di completamente sbagliare bruciami i pantaloni fare una figura poi sono anche molto incroccato con le ossa flessibilità a zero cosa ne pensi Alberto di questo spettacolino? ci ha fatto pensare qualche move ci ha fatto pensare al senso della vita profondo la palla infuocata attorno al collo giriamo, giriamo questa si chiama il girasole di Venere che profondo è una mossa del Catanese aspettate aspettate c'è di più questa si chiama il pavone che danzava con Zeus ecco il pavone ecco il pavone che sta vicino il pavone le pavone le serate continue non vediamo bene neanche se ne faccio il bico però e abbiamo trovato i posti seri finalmente a Botei abbiamo trovato i posti seri qua ecco ragazzi se devo essere sincero questa musica elettronica a me non è assolutamente mai piaciuta cioè è troppo da fattoni per quanto mi riguarda, è troppo da gente che fa cose strane qua ragazzi siamo morti, è finito, adesso ci avviamo alle macchine o nel mio caso almeno il motorino almeno quello, l'ho trovato alla fine è comodissimo parcheggiato qua su e noi ci vediamo e quindi ragazzi ricordatevi mi piace, commento, iscrizione, attivate la campanella noi ci vediamo nel prossimo video domani alle 11 mi raccomando